Oggi nelle prossime pillole voglio parlarti del libro Il Marketing Plan Vincente in maniera più approfondita rispetto a quello che ho fatto, diciamo, mesi, mesi, forse anni fa, del libro, appunto, Marketing Plan Vincente di Alan Dib. Lui divide il tutto in nove passi diviso in tre categorie, il prima, il durante e il dopo, quindi tutto ciò che riguarda il marketing viene diviso in queste tre fasi che viene a sua volta diviso in tre aree. Partiamo oggi dalla prima, ovvero il concentrarsi su una nicchia di mercato. E parto affrontando la paura che hanno molte persone, ovvero quella di perdere i clienti se stringono troppo la nicchia. E ti leggo proprio quello che scrive Alan Dib a riguardo. Potreste pensare al perché dovreste limitare così tanto il vostro mercato? Si parla di scegliere una nicchia. Ecco la risposta. Avete un budget limitato. Se vi concentrate su un mercato troppo ampio, il messaggio di marketing sarà diluito e debole. Due, l'altro fattore critico è la rilevanza. Lo scopo della pubblicità è che i vostri potenziali clienti dicano, è proprio quello di cui avevo bisogno. Il primo punto di tutta la creazione del marketing plan parte proprio dalla definizione della nicchia. Io spesso faccio l'esempio di una palestra che ha corsi per donne, per uomini, per bambini, per ragazze, corsi di yoga, corsi per perdere peso e via dicendo. Qual è il punto che se noi ci concentriamo su tutti, il nostro messaggio sarà ovviamente, diciamo, un influente, passerà in osservato. Quindi noi dobbiamo individuare il mercato a cui ci vogliamo rivolgere e creare un messaggio esclusivamente per loro. Che non significa, oltretutto, che se scegliamo un target dobbiamo escluderne un altro, ma semplicemente dovremo creare un messaggio per gli uomini che vogliono mantenersi in forma, un altro per le donne che vogliono perdere peso. Quindi ogni target di riferimento avrà bisogno di un messaggio specifico, ma dobbiamo partire da questo presupposto. Chi è il nostro pubblico? Chi è il cliente con cui saremmo ben felici di lavorare perché avrebbe beneficio da quello che abbiamo da offrire? Parti da questa domanda e trova la tua risposta perché tutto ciò che andrai a fare partirà proprio dalla scelta del tuo mercato di riferimento. Quindi oggi rifletti su questo perché se non hai ancora un mercato di riferimento, se non hai ancora selezionato la tua nicchia, sappi che il tuo marketing probabilmente non è efficace quanto potrebbe. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, non abbiate paura di escludere qualcuno se stringete troppo il vostro focus perché come dicevo voi potete creare semplicemente più messaggi. Quindi una parte del budget la dedicate a cercare uomini che vogliono perdere peso, un'altra le donne che sono appena diventate mamme e vogliono rimettersi in forma. Esempio veramente a caso. Però sono due target talmente diversi che hanno bisogno di una comunicazione diversa e sceglierne uno non significa escluderne a priori un altro. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!